foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione bella a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro giocatore, siamo arrivati signori nell'ultimo episodio, per adesso ovviamente, poi a meno che quando usciranno i toz non si sa mai, del Road to Top Italian Team, ragazzi finalmente siamo arrivati alla fine di questa serie e vi voglio veramente ringraziare, perché siamo qua ragazzi, perché sono andato a prendere l'ultimo giocatore che ci serviva nella nostra squadra e ho fatto un'altra modifica, grazie comunque ai vostri commenti, che un ragazzo mi ha consigliato un altro modulo e avete lasciato il like in quel commento quindi ho preso appunto quel modulo lì che mi avete consigliato signori sto parlando di Baresi Legend, eccolo qua, non abbiamo raggiunto i 25 mila like nell'ultimo video, ok però comunque devo portare a termine questa serie e ho deciso comunque di andare a prendere e mettere Baresi come terzino destro in più ragazzi, a posto di insignia ho messo Verratti 89, che è il top del top attualmente, quindi ragazzoni miei, abbiamo fatto quasi un full Legend Team, tranne per due giocatori di Buffon e per quanto riguarda Verratti, per il momento la squadra questa è al completo, più di questo non si può avere, anche se abbiamo che i Lini 90, ma meglio la leggenda che un giocatore comunque 89 90 o cose varie, quindi meglio una leggenda, e attualmente signori, questa è la nostra squadra definitiva, finché ovviamente in uscita i Tozze, vediamo un po' se ci sarà, che ne so, Buffon 92, andiamo a prenderle e mettere Buffon 92, facciamo qualche modifica quindi signori, io spero che ovviamente questa serie vi abbia fatto veramente tanto piacere sono contentissimo di come è andata quindi vi ringrazio tutti quanti per il supporto che avete lasciato like, commenti e cose varie per finire questa serie io vi chiedo gentilmente di arrivare a 30 mila like, ragazzi ce la possiamo fare nell'ultimo episodio siamo arrivati a 21 mila like 30 mila like ce la possiamo fare senza problemi fannemi vedere che anche voi appunto siete stati soddisfatti di questa serie e mi raccomando perché dopo questa ragazzi arriverà la Pallo Challenge mi raccomando, spolliciate andiamo a vedere il nostro fine avversario ed oggi ragazzi dobbiamo festeggiare questo fine serie assolutamente con due vittorie non voglio scuse Simone voglio proprio che ti devi concentrare lui ha una bella serie A immischiata a una Premier League quindi la squadra è molto buona del mio avversario ma signori dobbiamo assolutamente ottenere due vittorie siamo pronti vediamo che il calcio di inizio tocca al nostro avversario e che ok non si muoveva il nostro avversario sta già facendo dei macugne strani dei giochetti che non mi piacciono moltissimo secondo me ragazzi io non ho idea della gente che comunque guarda la mia squadra secondo me si mette paura dice dici minchia questo c'ha un full legend team quasi vai bamba mamma mia ci prova così al volo giocherino e si parte con Del Piero ancora Del Piero ancora lui ancora lui ancora Del Piero guarda lo Zola madonna mia madonna mia che stavo facendo con Zola per un pelo buono ma dai era bellissima attenzione l'abbiamo presa e ci sta signori proprio lui il capitano Alex Del Piero signori che va a segnare il primo gol finalmente arriva questa firma del nostro capitano e come festeggiare questo finale serie come iniziare questo finale serie con il gol del capitano Del Piero ancora barrati e Maldini stanno a fatturo loro prende ancora il pallone ancora lui Alex Alex e ci sta ragazzi doppietta del capitano rimballa il pallone rimbalza davanti a lui e non oh e non perdona Alex va a segnare il secondo gol vediamo se riusciamo a fare una bella tripletta non lo stavo dicendo non lo facciamo tirare così si può che questo c'è purga di bala e pam secco provo a tirargli un po' la maglietta ma niente buono buono e ci sta ragazzi che skill go pensi in shot e come cazzo si chiama proprio lui nestano inzaki perchè nestano ho flashato un nest tantissimo inzaki buono così ragazzuoli che buona va che buona vai Verratti vai Verratti mazza che bomba ha tirato Verratti mamma mia che bomba ha tirato Verratti regà porca miseria che bomba che ha tirato ah boom bellissima forza oh sto a fare un tiro al giro regà penso su madonna mia madonna mia pure bobovieri signori ma che cazzo siete ristati a fare oh mazza e bomba a mano capisco che l'ultimo episodio mamma mia che fricoletti che stanno a tirare regà belli 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 proprio se stanno a fare l'autocall signori prima partita terminata e dai così regà un 5 a 1 con dei tiri surclassati proprio bellissimi e però i serve degli esport io vi ho detto che sentivo lenti i giocatori c'era qualcosa che non quadra ma va bene così la prima partita l'abbiamo vinta vediamo un po' se riusciamo a fare la seconda ok ragazzi vediamo l'ultimo avversario di questa sfida abbiamo una bella squadra contro non male nulla di granché ma speriamo ovviamente di andare a vincere quindi cerchiamo di fare subito 4 o 5 gol in modo di farlo quittare e finiamo anche questa serie con un bel rage quit speriamo vai vediamo che inizia il nostro avversario questa super partitozza finale raga vediamo un po' come andiamo a trasferire questa bella partita se vinciamo o se ce la prendiamo con il culos ah fuori il gioco peccato dai 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 che fino adesso mi è piaciuto vai che fino adesso mi è piaciuto dai che fino adesso mi è piaciuto signori 1 a 0 Bipo Inzaki prende la traversa che se era la bella challenge è già un buon gol perché era tre punti con il gol erano cioè tre punti la traversa fa un culo ma avete capito no eh praticamente la traversa col gol erano tre punti quindi già era tantano che cazzo sto a fare signori ucci ucci sento odor di quittucci e da che me la quitti sta partita su e da che me la quitti sta partita su e da che finiamo con un rage quit da che finiamo con un rage quit raga da che finiamo con un rage quit signori qua quitta dopo neanche 8 minuti quitta dopo neanche 8 minuti ve l'ho detto ragazzi lo facciamo quittare subitissimo vince i giocherini 1 a 0 dopo neanche 8 minuti 2 tiri 2 in porta un altro po' facciamo il 2 a 0 con 2 tiri e signori miei l'abbiamo surclassato signori che dire questo appuntamento è terminato non me ne faccio un altro perché se no non voglio che il video duri troppo e poi vi annoio un pochettino io ovviamente spero che vi sia piaciuto mi raccomando spolliciate grazie mille a tutti per aver seguito questa serie la grande mi raccomando 30.000 like per questo finale serie incredibile abbiamo raggiunto il top della squadra italiana ovviamente poi andremo a mettere qualche altro giocatore se ci saranno altri giocatori adesso il massimo e verrà tipo se esce un centrocampista fenomenale lo andiamo a mettere al prossimo appuntamento lasciate un bel like mi raccomando ciao signori